Solo se è previsto, non me ne frega, io voglio dei prodotti da mangiare come previsto, c'è salumi, questa pasta meravigliosa. Ma infatti i finalisti, almeno i 10, non voglio dire proprio i semi finalisti, dovrebbero avere una bottiglia di vino, un po' di pasta. No, invece io conosco uno che ha vinto in un'edizione passata, che è Alberto Mossino, e quindi mi ha parlato molto bene di questi altri giorni, e quindi sono contenta di venire anche solo per vedere che cos'è e com'è, mi ha detto che è un ambiente molto stimolante, creativo, ci sono tante cose. Sicuramente, come dire, una tre giorni di cibo, vino, anche letteratura e cultura, per carità, anche. Però, insomma... Questo è il vero omaggio alla famiglia Pante. Il cibo? O il vino? Il vino soprattutto, diciamo. E allora, il 19 chi viene? Io vengo. Simona? Io penso che forse è una passata per un cresino. Ok, Giuseppe Catanzaro? Vengo a tifare di vino, non per... No, chi fa l'ordine di scuderie, ecco. Se vieni a trovarmi di salvia, potremmo... Ordine di scuderie. Io forse vengo il vecchio a bere, però, a questo punto. Vengo a bere la salute di ragazzo. Vengo, quindi potrei decidere di festeggiare. Vengo a bere la salute di ragazzo. Ah, e allora? Vengo a fare un camper John Fante. Facciamo il grande camper e andiamo a partire. Tre anni fa sono stati in camper. Vero? Ecco qua, va bene. Allora, vi aspettiamo a Torricella Peligna. Volentieri. Insieme a John Fante. Grazie.